questo è un acquario fatto di moltissimi pesci che ovviamente si riproducono da soli guardate io ne avrò messi 5-6 e sono diventati più di 40-50 sono di 3-4 qualità circa l'acquadro è tenuto in modo molto semplice ecco guardate questo è un pulitore questo non si è riprodotto è diventato solamente grande guardate come funziona la temperatura dell'acqua sta sempre circa 20 gradi mangiano il mancime normale che si può comprare in ogni fornitore di cibo per animali insomma va tutto da sé ci facciamo ben poco di manutenzione noi cambiamo l'acqua ogni 20 giorni circa e basta arrivederci